ma sei mai bella ragazzi bentornati qui sul canale di granas e siamo oggi qui presenti con un nuovo divino rotto di film one non so che ho detto comunque questa è la nostra squadra esattamente non è cambiata di nulla rispetto a quello che già era quindi puoi preverlo no si stanno pieno cinquarino in più Guaariiii Eh, non l'ho visto Col ciuffo in alto, vai Credibile, c'è Pjanic Quindi ho lui tutta la partita fa Pjanic 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 Ben, ci avancemo, giochiamo sempre in due Axjoc Subito con la partita Monster C'è content Benvenuto nello store e questo ceva colore Ceva colore Ceva colore Mamma mia Ce lo va a spiegare Partiti incredibile, incredibile subito, la cassette Guardatelo, la cassette, la cassette ugo un piano e piano e piano pala rato oggi ha mandato mai giochi incredibile incredibile amici incredibile guarda me ero perchè ho fatto altro però vabbè perchè tu me la metti in mezzo vola montana un po che cos'è questa bug di merda questa mafia vai fanculo fardona merda stronzo vai qui guarda me quello diciamo eccolo ECCOLOI ma levate levate rigore tutto calcolavo che vuol dire vedi non ci posso creare ma che vuol dire è meglio dei occhi st'arbitro mamma mia mamma mia per prendere ancora di più per rincularvi si tu fa che fordì ma dove ho fatto io il fallo mamma mia i vecchi trapani come fanno i vecchi trapani come fanno i vecchi trapani come fanno gervinio non va occhio sopra non è solo un bel an 2 no tranquillo 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 che si può fare ho avuto puro che altro ho avuto a caldo no la gazzetta mamma mia tristissima oh 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 che cazzo fai oh 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 bella 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 non so oh ma come ha fatto a prenderla non so l'ho passata però dalla dalla mezzo che passa mezzo e lo so ormai l'ho preso dal fomento che era passata da un muro di luigi metto il basso non so aspetta c'è il genio oh c'è il mio uu uu gervinio non va tirateli teplicitione e che cazzo onda mia incredibile una calamita un'aggia pensi mao uu uu giovani bello 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 i turbi come se ne va mamma mia mamma mia guanman i turbi grande cosa bella sole si mi fanno nominare col col avanza col avanza bella palla per jervi 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 i turbi si incredibile E' verribile! Porca droga! Carichi, carichi bro! Grappalo! C'è figlio! Questa divisione è bella! Quanto è bella! Per favore! Quanto è forte sto skill! Fatela tutti! No, non la fate perché se ne puoi farlo tutti! Non vabbè! E' partito i turbe! Bella! Mamma mia che palla! I turbe! Pallo! Tempure Giovinco! I turbe! I turbe! Oddio l'ho presa! Non ci posso crede! Perchè mi si sta allargando come non mai quel tipo? Mamma mia è un cubonna! Angelo! Di la notti! Perchè è nero! Pucco sta ma fa nero veramente eh! Cioè un tiro in porta ha fatto! E' finisce quella segnale con un tiro in porta! Ah, ma è culato eh! Ma io l'ho vinculato! Pezzo di merda! E' buona! Mazzo! No! 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 Che sta succedendo? Che fame de merda! Vai! E' qui! Conco! Conco vuole fare tutto da solo! Conco! Ancora! Conco no! Devo fare tutto conco conco! Cazzo fai! Ma tu che cazzo fai te! Con tranquillo! Ah, pianici! Pianici! E poi fa! L'hai fatto? Ciao! Subito sempre! Pallonetto sempre! Ciao! Giovinco sempre! 10! Eccolo ancora! Cavani! Prova ad avanzare! Naigolan! Incredibile! Ora Gesus lo vede i turbe scattare! I turbe! I turbe! I turbe! I turbe! I turbe come corre! I turbe ancora! Mezzo! I turbe di nuovo! Oh! Condividete il video se volete! Mettete mi piace! Pagina Facebook! Profili Instagram! Profili personali! Aga Brambarambaz! Da Granarese è tutto! Buon nato! Bello! Ciao! Ciao! Ciao!